Annalisa Spera rassegna le dimissioni da portavoce di Fratelli d'Italia nel comune di Battipaglia. L'annuncio stamattina attraverso una nota stampa. Un lungo percorso iniziato nel 2019 ma che oggi a causa di impegni familiari e lavorativi non posso più assolvere come vorrei, dice l'ex portavoce. Ringrazio di cuore Emma Vietre e Ugo Tozzi che nel 2019 da portavoci provinciali mi hanno accordato la loro fiducia. Ringrazio l'attuale coordinatore provinciale Giuseppe Fabricatore per il sostegno che mai mi ha fatto mancare in questo lungo percorso. Ringrazio l'onorevole Edmondo Cirielli e il senatore Antonio Iannone. Con la dimissione di Spera decade il direttivo che l'ex portavoce ha nominato poche settimane fa. Ci sarà spazio per nuove attività. Io resto una tesserata di Fratelli d'Italia e continuerò a svolgere attività politica sul nostro territorio. Rassicura Annalisa Spera.